Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Italia Divisa in due. Troviamo al sud l'alta pressione subtropicale che porta caldo e aria invece più instabile al nord. Questa situazione persisterà fino a venerdì, poi aria più gradevole verso tutta Italia nel fine settimana, prima di una nuova rimonta anticiclonica tra lunedì e mercoledì prossimo. Però di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda questo GVD in Abruzzo aumentano le nubi, quindi inizia a farsi sentire aria un po' più umida e instabile proveniente da ovest che porterà nubi meglio alte, quindi tante velature. Localmente qualche nube un po' più compatta, un po' più organizzata che potrebbe dar luogo a degli acquazioni. Ma per lo più, negli aree più interne, sulla Marsica, all'Alto Aquilano, fenomeni poco rilevanti, altrove cielo sereno, poco nuvoloso. Nubi in aumento tra pomeriggio e sera sul resto dell'Abruzzo senza particolari fenomeni. Le temperature in ulteriore lieve aumento con massime fino a 32, localmente 33 gradi, quindi condizioni di caldo particolarmente intenso per il periodo. Quindi anomalie di almeno 4-5 gradi al di sopra delle medie. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.